Quando hanno portato gli schiavi in America, è la stessa cosa che sta succedendo là a Bari. Non so se riesco a raccontare tutto quello che ho vissuto là. Perché non sapevo che ancora nel mondo 2018, ragazzi, ancora esistono queste cose qui in Italia, un paese dove io pensavo che è un modello. Chissà come funziona là al CPR Bari. Se mi dicono vai lì per una settimana, vai sei mesi in carcere, io vado sei mesi in carcere. Quanto è importante avere qualcuno fuori, sentire qualcuno che ti chiama lì fuori. Adesso posso dire che veramente la schiavitù è cominciata, veramente. Questo è un vero schiavismo.